Il 12 e 13 giugno si è tenuto a Roma presso l'Auditorium Loyola il Consiglio Nazionale FIAIP 2023. Tanti temi al centro della due giornate di lavori a partire da quello della nuova direttiva energetica prevista dall'Unione Europea. Abbiamo messo in atto un'attività molto intensa sia a livello di interlocuzione governativa diretta che attraverso gli europarlamentari con cui siamo in contatto. Abbiamo fatto tre proposte, la prima è quella di prevedere un sistema di esenzioni più ampio, la seconda proposta è quella di avere un atteggiamento di accompagnamento del cittadino, quindi prevedere degli incentivi fiscali per chi desidera efficientare la propria abitazione e forme di finanziamento agevolate e inoltre allentare i limiti temporali. Sul tema è intervenuta in videoconferenza anche l'eurodeputata Isabella Tovaglieri, relatrice ombra presso il Parlamento Europeo, che ha sottolineato le criticità presenti nella direttiva UE, evidenziando un forte sostegno alle proposte avanzate da FIAIP su questo tema. Immagino che la direttiva UE la confermiate nel meglio e meglio di me, sapete perfettamente che così com'è non è sostenibile. Sostegno, ribadito anche in una lettera inviata a FIAIP dal ministro Picchetto Fratin, contenente la posizione ufficiale del governo che suggerisce modifiche alla direttiva. Una forte sintonia e una stretta interlocuzione fra FIAIP e il governo è emersa anche riguardo un altro tema fondamentale sul fronte professionale e sociale, quale è il cosiddetto piano casa. Noi riteniamo che questo caro affitto universitario, in parte strumentalizzato come tema, debba essere affrontato aumentando l'offerta di immobili sul mercato. Aumentando l'offerta si va a delineare per la legge di mercato ovviamente un calmieramento da parte dei valori di mercato e questo quindi secondo noi va fatto in due modi, da una parte diciamo in maniera sinergica tra pubblico e privato. Per sviluppare un piano casa che abbia quindi una prospettiva strategica e che abbia anche un orizzonte mediante il quale potersi dispiegare serve tempo e noi stiamo elaborando e abbiamo in animo per la fine dell'anno di presentare già strumenti di risposta a questa esigenza consapevole del fatto che però le tensioni abitative che anche in questi mesi si registrano difficilmente potranno essere scontrate con interventi pubblici, intendo per interventi pubblici le realizzazioni nuove fabbricate in tempi brevi. Altro tema di grande attualità affrontato durante il Consiglio è stato quello delle locazioni turistiche. È un segmento che porta dei benefici a livello economico sia locale che nazionale perché va a ampliare l'offerta turistica nazionale e quindi abbiamo, nei due incontri che abbiamo fatto nel tavolo di confronto che ha istituito il Ministero del Turismo con il Ministro Santanchè abbiamo proprio effettuato questo tipo di proposte e su tutti un unico codice identificativo nazionale con un'unica banca dati nazionale che prevede un unico adempimento digitale da parte dei gestori professionali e dei proprietari e prevediamo appunto che non vi siano delle limitazioni temporali al diritto di affettare liberamente i propri immobili da parte del proprietario sia limiti minimi che limiti massimi. Centrale per FIAIP è anche il grande progetto nazionale anti-abusivismo. Al di là di quelli che stanno iniziando questa attività per cui stanno facendo un percorso propedeutico alla conoscenza dell'attività però coloro che invece eseguono trattative senza avere l'abilitazione possono creare dei danni al maggior investimento che il singolo cittadino fa dei danni talvolta di grande rilevanza perché l'acquisto di un immobile talvolta asciuga tutte le risorse del cittadino. Il Consiglio nazionale ha inoltre evidenziato una capacità crescente di FIAIP nello stare sempre più al passo coi tempi e con le novità della tecnologia e della comunicazione. Partiamo dalla firma digitale con riconoscimento a distanza che permette di svolgere tutte le attività di firma fino anche ai preliminari direttamente dal cliente a casa sua e quando anche siamo in presenza di preliminari non contestuali dalle registrazioni telematiche, dal fatto di avere dei virtual tour molto importanti tutti i servizi che la federazione sta offrendo a dei prezzi molto molto più bassi essendo le società della federazione e anche da un'attività che è quella di individuazione da parte del pubblico degli agenti immobiliari e questo lo facciamo con il cercacasa.it che è diventata la prima community degli agenti immobiliari. Durante il Consiglio nazionale FIAIP ha rilanciato con forza il marketing associativo. FIAIP Extra sono i nuovi canali social di FIAIP dedicati esclusivamente al marketing federativo. Il nostro obiettivo attraverso questa nuova linea dei canali è quello di raggiungere tutti coloro che ancora non fanno parte di FIAIP, tutti quelli in mondo degli agenti immobiliari che oggi non sente la necessità di essere rappresentato da una risultanza sindacale. Il Consiglio ha voluto anche rendere omaggio all'Emilia Romagna, alle prese con gli eventi catastrofici causati dall'alluvione. La federazione si è adoperata attraverso una raccolta fondi, stanziando risorse economiche per tutti gli agenti immobiliari FIAIP colpiti dall'ennesima calamità naturale per poter consentire a tutte le agenzie immobiliari di ripartire con le proprie attività il prima possibile. Il dato che è da sottolineare è l'unanimità del senso politico che ha tutta la categoria, votazioni al 100% di bilanzio, votazioni univoche proprio per il futuro della FIAIP e secondo me questo è un grandissimo passo avanti anche rispetto alla FIAIP di tanti tanti anni fa.